Anche quest'anno, dopo il successo dell'anno scorso, proponiamo la settimana del canto Lombardo. Visto l'entusiasmo che ci ha accolto l'anno scorso su questa manifestazione, quest'anno abbiamo preso in carico ancora questa manifestazione portata su un ambito territoriale bergamasco molto più ampio. Infatti l'inaugurazione verrà effettuata a Sarnico, venerdì 28 maggio, per proseguire a Groni, sabato 29 maggio, per andare in Val Brembana, Serina il 30 maggio, per andare nella pianura bergamasca il 2 giugno a Romano in Lombardia, per proseguire in Vali Magna il 4 giugno a Berbenno, per andare a Roncola per guardare tutta la nostra vallata bergamasca il 5 giugno e la giornata clou domenica 6 giugno. Domenica 6 giugno ci tengo in particolare in quanto tutti e 12 Cori più il Cori di Dica si troveranno a Clusone, a Clusone dove penso nella piazza che rispecchia la città di Clusone, dove c'è l'orologio, dove c'è il nostro palazzo comunale, dove lì sopra c'è la nostra grande basilica, dove alle 11.30 si terrà la messa, la messa animata da tutti i Cori assieme, ci saranno le parti comuni più vari canti cantati dai vari Cori per alietare la messa dall'inizio fino alla fine. Diciamo la verità, il bello di incontrarci tutti assieme sarà il ritrovarci, cantare nelle piazze, cantare all'interno della città di Clusone che penso che sia un po' una patria dei Cori, non solo per il Cori di Dica, ma per tanti altri Cori e durante questa mattinata in collaborazione con gli alpini di Clusone offriremo anche il rinfresco sotto i portici, mentre i Presidenti e i Maestri verranno ricevuti dall'amministrazione comunale da parte del Sindaco, la Sussurra Cultura e il Sussurra del Turismo in sala consigliare. Finito questo andremo giustamente a fare una piccola pausola conviviale, mettere le gambe sotto il tavolo, a interno a certi ristoranti della nostra cittadina, per cui alle 3 partire per Bergamo, dove avverrà il concerto finale sul Teatro Sociale di Città Alta. Questo per rendere onore anche alla nostra provincia a tutti i Cori della Settimana del Canto Lombardo. State già organizzando anche la terza edizione? Sì, dall'idea che era nata un anno e mezzo fa, era quella che la Settimana del Canto Lombardo doveva rimanere in una sede sola, ma in accordo con tutti i Cori era dove tutte le esibizioni dovevano essere effettuate sul territorio Lombardo. La prima è stata fatta a Clusone, organizzata dal Coro Idica in terra bergamasca, la seconda per dare spazio anche agli altri Cori di organizzarsi è rimasta sul territorio bergamasco. Dall'anno prossimo la sede sarà la provincia di Sondrio, il Coro Valtellina ha già dato la sua disponibilità a portare questa settimana il Canto Lombardo dove anche in Valtellina avrà sempre il logo di un'idea del Coro Idica di Clusone.